ciao benvenuti nel canale filati da sogno io sono marina e lei è la mantella sinfonia l'ultima mia creatura allora la mantella sinfonia beh a parte i miei punti sinfonia che voi vedete qui a questa particolarità del polsino cioè praticamente visto che io ormai chi mi conosce lo sa quando esco esco con le bimbe e ho bisogno che non si sposti troppo il poncio o la mantella in questo in questo caso che non si sposti troppo e con le maniche effettivamente rimane fermo io mi posso muovere come voglio posso tenere la borsetta cioè tante cose che mi sono veramente comode e ho fatto il cappuccio poi magari sul manichino ve lo faccio vedere meglio ma volevo farvelo vedere proprio indossato e la praticità proprio la praticità ovviamente voi potete farlo lungo quanto volete ok vedete questo quanto se lo tiro su così ovviamente si accorcia aspettate provo a fare tutto da sola è perché se no sono veramente ecco sono solo ecco questa è la lunghezza non so se riesco a spostarmi ancora un po di più ok questa è la lunghezza questo è dietro con il suo cappuccio il cappuccio poi rimane così ok ho messo un po che devo ancora rifinire infatti ci saranno due figli che escono vedete qua devo ancora fermare quei due figli questo è praticamente il retto il davanti come la pazza di marina che sono io e il cappuccio è stato fatto in un'altra maniera un po più fitto come lavorazione non ho continuato con sinfonia ma l'ho fatto in modo semplice è un progetto semplice ragazze non pensate che sia complicato è un progetto semplice vi seguo in tutti i passaggi tutti quindi non ci possono essere dubbi mi raccomando seguitemi e vedrete che non avrete dubbi o problemi di sorta chi vuole può non fare il cappuccio tant'è che sul manichino vi faccio vedere anche l'altro semplice senza maniche più corto e senza cappuccio così voi scegliete se fare un modello oppure l'altro ecco ed ecco la mantellina che appunto vi dicevo quella semplice cioè praticamente qui abbiamo la mantella più corta vedete è proprio più corta ho messo la pelliccetta ecologica tra l'altro stupenda questa pelliccetta e poi ve la metto vi metto il link anche di questa pelliccetta e qui vi dico è spettacolare anche semplice quindi senza il cappuccio vedete proprio senza il cappuccio della lunghezza poi deciderete voi ho deciso questa lunghezza proprio perché è per un'amica che me l'ha richiesta non lunga e senza il cappuccio e ho scelto di farla così in questo modo qui ecco e per farla così praticamente in questa misura ve lo spiego proprio man mano che andiamo avanti con il lavoro ho scelto per questo lavoro il filato donna se mi si mette a fuoco sarei molto felice però se non si mette a fuoco non importa probabilmente c'è l'altra aspettate lo metto qui niente da fare non vuole comunque sia il filato donna che stupendo ve lo faccio vedere sia in una recensione che anche dopo insieme al filato safari che e poi questa pelliccetta ecologica che ho messo solo in fondo non l'ho voluta intorno al collo perché potrebbe dare noia è vero che la mia amica non ha lenti a contatto però se ci fosse qualcuno con le lenti a contatto magari potrebbe dar fastidio qualche pelucchio eventuale che scappa via e quindi non l'ho messa e questa appunto è diciamo la mantella sinfonia semplice ora vi mostro sul manichino quella che avete visto prima indossata da me ecco come vedete è lei è lei in tutta la sua magnificenza odio scusatemi è ma sono persa proprio per questa mantella mi sono proprio persa in tutti i sensi ci ho messo proprio tutto me stessa e ragazze proprio veramente mi dovete credere tutta me stessa qui dentro l'avete vista indossata io sono un orrore dentro una la mantella però ecco il cappuccio quello che volevo farvi vedere vedete come vi dicevo devo ancora bloccare i due pompon il cappuccio è fatto con tre pannelli quindi praticamente il pannello centrale due pannelli laterali che danno che danno veramente un diciamo un modo diverso di fare il cappuccio ad uncinetto poi per carità ne ho visti anche altri fatti così però io ho voluto farmelo in questo modo con cui cucitura evidente vedete i due pompon che sembrano un orsettino forse così riesco a mostrarvelo meglio cioè questi dovranno stare così ok sulla testa a parte che anche se li lascia un po giù non importa quindi questo diventerà il cappuccio ok essere sole è un po' un disastro e quando si fanno queste cose però spero veramente spero di tra un pochino vederlo indossato un pochino visto qui sul manichino di darvi l'idea di come verrà il vostro perché io spero tanto che appunto anche voi vorrete realizzarlo insieme a me perché ripeto passo per passo lo faremo insieme quindi non vi preoccupate che riuscirete tutti a fare questo questa mantella sinfonia a volte mi sbaglio io lo chiamo poncio ma è anche un poncio se vogliamo è anche un poncio forse la prima che avete visto cioè la mantella quella lì cortina può essere appunto una mantella ma questo qui mi sembra proprio un poncio senza punte ma un poncio ve lo faccio vedere dietro ecco e questo è il dietro qui forse il cappuccio lo vedete meglio che indossato ho visto ho visto proprio come ve l'ho mostrato io prima qui forse vedete meglio il cappuccio il cappuccio vedete a questa parte centrale e i due pannelli laterali dove poi io l'ho abbellito con la pelliccia ecologica tra l'altro questo è il filato che ho usato si chiama ambiente non c'è quello identico a questo colore ma ce n'è uno che è il gemello praticamente è il gemello e vi lascio il link e poi ho usato la pelliccia ecologica adesso io qua ho combinazione l'ultimo pezzo che mi è rimasto tra l'altro per farlo così come lo vedete quindi completo in questo modo io ho usato tre lotti di ambiente e mi è rimasto questo è un pezzettino di un altro gomitolo e basta e basta praticamente non vi occorrono tutti perché c'è proprio tanto tanto filato che serve ecco spero di avervelo mostrato nel miglior modo dei modi e spero veramente che volete adesso perché io mi ci metto subito insieme a voi a creare questa mantella e quindi per tutti coloro che vogliono seguirmi auguro un buon lavoro eccoci sul tavolo lavoro allora parto subito col presupposto che nel momento in cui sto registrando sono ancora indecisa su quale filato scegliere è incredibile mai così e quindi parto subito con questa indecisione sono indecisa se usare regina lana che l'ho provata ed è di una bellezza unica proprio veramente unica qui l'ho lavorato con il l'uncinetto numero 7 però mi piace tantissimo ambiente ambiente mi piace tanto proprio tanto tanto mi sa che vince ambiente ma ripeto come qualità sono eccellenti entrambi vabbè ovviamente il donna il donna con il donna avete visto sicuramente l'anteprima ho fatto quello corto col donna ed è non ve lo sto raccontare prendetelo provatelo perché stupendo il donna è quello con 70 lana e 70 acrilico ok quindi questo è già stata la mia scelta primaria ma ne volevo fare appunto un altro perché il primo non c'è già più si può dire che non c'è già più ambiente allora ambiente ma parte quello che c'è dentro che 50 acrilico 50 lana è proprio quello che provo nel toccarli questi filati che stupefacente o regina lana regina un altro spettacolo 30 per cento lana e 70 dralon è una dura lotta perché questo l'ho già usato e ok tra i due vedremo con quale partirò ci riflette un secondo mi sa che ho deciso scelgo ambiente sì 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 me lo faccio così questa volta con questi colori qua sì sì scelgo ambiente benissimo scelta fatta iniziamo con 72 catenelle che sono la circonferenza che mi serve per il collo ok quindi facciamo 72 catenelle io sto usando l'uncinetto 6 ma come sempre vi dico è una cosa molto personale quindi dovete poi vedere qual è l'uncinetto giusto per voi ok provate a seconda del filato se scegliete questo è francamente me lo consiglio e straconsiglio ma anche gli altri che vi ho fatto vedere comunque provate sempre se l'uncinetto è quello giusto per voi quindi facciamo le nostre 72 catenelle fatte tutte le catenelle ci ritroviamo qui per la chiusura del giro quando abbiamo fatto le nostre catenelle quindi io ne ho 72 sto ben attenta vedete partendo proprio dall'uncinetto la tengo dritta no la fila di catenelle la tengo dritta e vado a cercare l'altro capo proprio per fare in modo che sia dritta la mia catenella perfetto trovato l'altro capo questo il mio nodino quindi è qua e mi congiungo con la parte opposta con una maglia bassissima ok andiamo a fare il primo giro allora tiriamo su 2 catenelle perché andiamo a fare 72 maglie mezze maglie alte ok quindi inseriamo questa è già impegnata nella maglia nella catenella subito successiva andiamo a fare una mezza maglia alta che praticamente basta semplicemente chiudere tutte e tre le maglie che abbiamo sull'uncinetto poi nella successiva ancora una mezza maglia alta andiamo nella successiva una mezza maglia alta successiva una mezza maglia alta successiva una mezza maglia alta e proseguiamo così per tutto il giro fino ad arrivare dalla parte opposta dove ci ritroviamo contate tutte le mezze maglie alte devono essere 72 se lo state facendo con il mio filato altrimenti dovete decidere voi quante catenelle mettere per la vostra circonferenza della testa per esempio fosse una bimba a questo punto vi servirebbe una circonferenza inferiore alla mia io l'ho fatta già abbastanza stretta come come circonferenza quindi vedete voi ecco in base alla testa dovete inserirla dalla testa quindi provate e vedete se vi passa dalla testa a quel punto il gioco è fatto quindi io farò 72 mezze maglie alte e voi in base al numero che avete impostato per il vostro inizio bene quando arriviamo a congiungerci ecco fate attenzione a una cosa a tenere dritto perché a volte ok ci può essere questa torsione che ovviamente dovete poi disfare tutto ok quindi quando siete tranquille allora a questo punto chiudete il giro come ora vi mostro allora contate prima di chiudere contate ovviamente quante maglie averti dove devono essere le stesse maglie che avete utilizzato per la catenella ok io ne ho 72 conto questa è la mia prima catenella che ho fatto conto 1 e 2 perché ricordate che sono partita con 2 catenelle proprio perché dovevo fare delle mezze maglie alte quindi conto 2 catenelle entrò nella testa proprio della catenella e chiudo con una maglia bassissima benissimo adesso tiriamo su invece 3 catenelle quindi 1 2 e 3 più 1 per fare la catenella di separazione saltiamo vedete che queste 3 catenelle corrispondono a questa maglia alta mezza maglia alta sottostante quindi saltiamo questa maglia alta andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta una catenella saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta una catenella saltiamo 1 andiamo nella successiva una maglia alta saltiamo 1 quindi abbiamo fatto la catenella saltiamo 1 andiamo nella successiva una maglia alta continuiamo così quindi una catenella saltiamo una maglia nella nella seconda facciamo una maglia alta per tutto il giro salto ancora una maglia e andiamo direttamente nella terza questa volta perché abbiamo fatto 3 catenelle in quanto 3 catenelle corrispondono la prima maglia alta quindi vado 1 2 nella testa della terza catenella tiro fuori il filo e chiudo e così o ho concluso il secondo giro abbiamo fatto il nostro secondo giro non vi preoccupate se si inarca è giusto che vada così andiamo a fare il terzo giro allora nel terzo giro tiriamo su 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta nello spazio facciamo una maglia alta ne sopra la maglia alta facciamo una maglia alta nello spazio una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta quindi abbiamo solo maglie alte in questo spazio e sopra la maglia alta nello spazio e sopra la maglia alta sono tutte maglie alte e facciamo questo quindi ritorniamo ad avere 72 maglie alte facciamo questo per tutto il giro e ci troviamo qui all'inizio arrivati alla fine del giro andiamo nella terza vedete perché alcune non riescono a capire questo giro qui quindi praticamente questa è la prima maglia alta formata da 3 catenelle noi contiamo a partire proprio da sotto 1 2 e 3 nella terza inseriamo l'uncinetto tiriamo fuori il filo e chiudiamo ok e abbiamo sempre 72 maglie ora dobbiamo fare il quarto giro il quarto giro dobbiamo fare delle maglie basse nel quarto giro e dobbiamo fare 12 aumenti ok ovviamente se voi state seguendo me dovete fare 5 maglie basse nella sesta facciamo un aumento quindi voi fate così fate 5 maglie basse nella sesta fate un aumento qualsiasi numero di catenelle avete impostato per l'inizio ok quindi alla sesta catena facciamo così guardatemi allora la prima ovviamente io faccio una catenella rientro dentro perché una maglia bassa altrimenti non la vedo come inizio e questa è la mia prima maglia bassa quindi io conto 1 2 3 4 5 maglie basse normalissima nella sesta maglia bassa quindi nella sesta maglia che io sto facendo che una maglia bassa faccio una maglia bassa e un'altra maglia bassa e la stessa cosa fate voi né più né meno ricominciamo quindi 1 2 3 4 5 nella sesta che questa faccio un aumento quindi farò 2 maglie basse nella stessa maglia sottostante e ricomincio da capo quindi 1 2 3 4 5 e nella sesta farò una maglia bassa doppia cioè in poche parole 2 maglie basse nella stessa maglia e continuo così per tutto il giro questo è il nostro quarto giro qualsiasi maglia voi avete ovviamente se non siete non avete le stesse catenelle e ne avete di più farete più aumenti se ne avete di meno farete meno aumenti l'importante che utilizzate questo sistema non importa se poi arrivate alla fine e magari anziché rimanervi 55 maglie o 5 maglie basse ve ne rimangono 3 non potete fare l'aumento amen non lo fate ok come vi dico sempre non lasciatevi la testa andate avanti così quindi fate 5 maglie basse la sesta la fate doppia ok 2 maglie basse nella stessa maglia benissimo andiamo avanti come vedete io adesso sono arrivata alla fine ho fatto 12345 mi rimane qui da fare l'aumento quindi 1 e 2 ecco questa è una maglia bassa quindi io vado nella prima catenella e chiudo il mio giro e il quarto giro l'abbiamo finito adorabile questo colore questo filato veramente adorabile quindi nel quarto giro ho fatto praticamente 12 aumenti e adesso ho 84 maglie ok andiamo a fare il quinto giro allora facciamo 3 catenelle per la prima maglia alta poi andiamo nella prima maglia bassa e passiamo quindi a fianco alla maglia che dobbiamo lavorare dietro quindi mettiamo a rilievo questo punto basso che è sottostante facendo la nostra maglia alta ok quindi filo sull'uncinetto entriamo vedete noi abbiamo lavorato questa maglia bassa ora entriamo proprio a fianco a questa maglia che dobbiamo lavorare giriamo gli attorno prendiamo il filo e facciamo una maglia alta di nuovo 1 passiamo di davanti usciamo dietro prendiamo il filo maglia alta di nuovo entro giro attorno prendo il filo maglia alta ve lo faccio vedere ancora una volta ecco qui c'è la doppia quindi io entro qui maglia alta entro anche nella doppia che qua doppia inteso cioè ci sono due maglie basse nella stessa ok andiamo avanti così per tutto il giro abbiamo finito anche il quinto giro quindi andiamo nella terza catenella dell'inizio e chiudiamo il nostro quinto giro andiamo a fare adesso il sesto giro nel sesto giro andiamo a fare altri 12 aumenti quindi io ho 84 maglie 84 maglie le divido per 12 io devo fare ogni 7 ogni 7 un aumento quindi nella settima ok c'è in poche parole adesso dobbiamo aumentare 12 volte io ho 84 maglie diviso 12 7 quindi nella settima io aumenterò ok vi ho fatto vedere questo proprio per farvi capire come dovete diciamo il calcolo che dovete fare voi ok siamo nel sesto giro ok maglie basse quindi facciamo una catenella entriamo nella stessa maglia e facciamo la nostra maglia bassa io faccio così perché ripeto la catenella poi non si vede mai quindi io calcolo questa come prima seconda terza quarta quinta settima e proprio nella settima io devo fare un aumento quindi rientro e faccio un'altra maglia bassa qui c'è un intruso che piaspa ok si ricomincia da capo quindi noi ne contiamo a questo punto ne facciamo 6 2 3 4 5 6 nella settima facciamo un aumento quindi due maglie basse nella stessa maglia e ripetiamo 1 2 3 4 5 6 e nella settima faccio un aumento continuiamo così per tutto il giro finiamo il nostro sesto giro ci agganciamo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima e abbiamo finito il nostro sesto giro abbiamo adesso 96 maglie andiamo a fare il settimo giro tiriamo sulle nostre 3 catenelle per la prima maglia alta e facciamo come il giro che abbiamo fatto prima del quindi praticamente come il quinto giro quindi noi prendiamo la maglia subito quella che dobbiamo lavorare la prendiamo quindi a fianco passiamo dietro anzi scusate passiamo davanti alla maglia bassa prendiamo il filo e facciamo la maglia alta quindi portiamo a rilievo la maglia bassa sottostante filo sull'uncinetto passo di lato passo davanti prendo la maglia la rifaccio ho preso malissimo e faccio la maglia alta ripeto 1 passo davanti 2 prendo il filo e maglia alta di nuovo filo sull'uncinetto passo di lato passo davanti alla maglia bassa prendo il filo maglia alta l'abbiamo già fatto quindi filo sull'uncinetto 1 2 e maglia alta 1 2 maglia alta 1 2 maglia alta maglia alta e andiamo avanti così per tutto il settimo giro finiamo il nostro settimo giro agganciandoci nella terza catenella della prima maglia alta benissimo andiamo a fare l'ottavo giro partiamo con le nostre 3 catenelle 1 catenella ancora quindi totale 4 filo sull'uncinetto rientriamo da dove siamo partiti quindi dalla stessa maglia e facciamo una maglia alta saltiamo 1 e 2 catenelle andiamo nella terza e facciamo un'altra v una catenella e una maglia alta saltiamo 2 maglie di base nella terza una v saltiamo 2 maglie di base nella terza una v quindi una maglia alta una catenella e una maglia alta nella stessa maglia procedete così per tutto il giro e ci ritroviamo qui io sono arrivata alla fine del giro come vedete mi manca una maglia ok io dovrei avere due maglie e poi agganciarmi né uno sola io faccio finta di niente e così dovete fare voi cioè è impossibile che riusciamo ad arrivare con le maglie esatte ok magari voi ne avete uno in meno come me o combinazione saranno giuste oppure ne avete uno in più quindi magari ne avete tre nessun problema fate finta di averne due sotto e quindi vi agganciate alla terza come sempre ci agganciamo ok io e come vi dico sempre in ogni tutorial questo non è uno schema prestabilito fatto fatto e rifatto queste sono sono è uno schema che ho fatto io e lo sto adattando in mille cose quindi l'importante è capire che non dobbiamo fasciarci la testa se non arriviamo nel modo corretto perché se vi fasciate la testa non riusciamo a ritrovarci ok quindi voi arrivate come volete l'importante avete visto anche se ne ho una soltanto ne avete magari tre sottostanti ancora anziché due ne avete tre oppure anziché due ne avete una non è un problema vi agganciate come ho fatto io abbiamo appena fatto l'ottavo giro adesso faremo il nono giro per il nono giro entriamo nella v direttamente proprio in questo modo con una maglia bassissima in modo tale da trovarci proprio all'interno tiriamo su 2 catenelle soltanto perché dobbiamo fare il punto palloncino come lo chiamo io con quattro maglie quindi ovviamente per fare il punto palloncino noi non completiamo la maglia alta vedete la teniamo su quindi io non posso fare 3 ma 3 catenelle altrimenti rimarrebbe questa più alta delle altre quindi così ne ho già due devo farne quattro in totale faccio una maglia alta non completa e sono 3 una maglia alta non completa e sono 4 a questo punto filo sull'uncinetto e chiudo tutto e chiudo tutto insieme chiedo scusa facciamo 3 catenelle molte di voi che mi seguono da da un po da quando dalla mia prima creazione di sinfonia mi dicono sempre come mai nel primo progetto metti una catenella 2 catenelle 3 catenelle perché io ripeto essendo un mio progetto lo modifico in base all'esigenza ok quindi ogni sinfonia che voi trovate agli stessi punti ma sono fatti in modo differente cioè non fatti in modo differente ma ci sono più o meno catenelle più o meno punti per il path perché magari sto utilizzando un altro filato quindi lo voglio più corposo meno corposo ok vi ho dato anche la spiegazione per questo in effetti qui normalmente noi facciamo 2 catenelle ma in questo caso io ne ho bisogno di 3 proseguiamo andando all'interno della nostra vi facciamo una maglia alta incompleta e teniamo sulla solina 2 incomplete 3 e 4 filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme 3 catenelle andiamo nella nostra b e rifacciamo di nuovo 1 2 3 4 abbiamo tutte le soline sull'uncinetto le chiudiamo in un'unica volta 3 catenelle filo sull'uncinetto andiamo nella b 123 3 4 filo sull'uncinetto chiudiamo tutto 3 catenelle ve la faccio vedere ancora per una volta entriamo nella b una maglia alta incompleta 2 maglie alte incomplete 3 maglie alte incomplete e 4 maglie alte incomplete chiudiamo tutto insieme facciamo 3 catenelle ripetiamo sempre questa sequenza fino alla fine del giro bene abbiamo terminato il nono giro quindi facciamo le nostre 2 3 catenelle io perché ne ho messe due no sono tre chiedo scusa inizia a dare i numeri ci inseriamo proprio sulla testa del nostro punto puff con una maglia bassissima allora ora vi mostro aspettate che si è giusto ok allora qui siamo al nono giro ok io ho deciso di cambiare l'uncinetto a questo punto quindi dal numero 6 di uncinetto io passerò al numero 7 quindi cambio uncinetto con il 7 ok quindi siamo passati dal 6 al 7 come uncinetto voi decidete cosa fare io normalmente quando ho bisogno perché lo sprone lo volevo un pochino più compatto adesso ho bisogno di morbidezza quindi passo al 7 però ripeto è una questione mia è non non certo non è un obbligo ecco cambiare uncinetto d'accordo allora a questo punto noi con una maglia bassissima quindi praticamente facciamo così entriamo proprio nello spazio di 3 catenelle e facciamo 3 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta e poi altre due maglie alte sempre nello stesso spazio di 3 catenelle ok totale 3 maglie alte il punto puff lo mettiamo a rilievo come abbiamo fatto qui con la maglia bassa quindi filo sull'uncinetto giriamo intorno al punto palloncino prendiamo il filo e facciamo la nostra maglia alta nello spazio delle 3 catenelle facciamo le nostre 3 maglie alte stessa cosa giri intorno al punto puff in questo modo vedete passo proprio da dietro con il filo sull'uncinetto passo da dietro prendo il filo e faccio la mia maglia alta e poi nelle catenelle farò 3 maglie alte 3 maglie alte nello spazio di 3 catenelle continuiamo quindi le 3 maglie alte nello spazio di 3 catenelle ve lo faccio vedere ancora una volta quindi dove avete lo spazio delle 3 catenelle farete 3 maglie alte come vedete il punto puff li girate dietro in questa maniera prendete il filo e fate la maglia alta e così via per tutto il giro quindi 3 maglie alte nello spazio e mettiamo a rilievo il punto puff o come preferisco chiamarlo io palloncino andiamo avanti così per tutto il giro chiudiamo il nostro decimo giro come sempre abbiamo fatto quindi sulla terza catenella dell'inizio facciamo un punto bassissimo e abbiamo chiuso il nostro decimo giro e ci apprestiamo a fare l'undicesimo giro tiriamo su 3 catenelle anzi 2 catenelle perché dobbiamo fare i tris quindi non deve essere completa la nostra maglia alta quindi 2 catenelle entriamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta incompleta nella maglia alta successiva facciamo una maglia alta incompleta ecco che abbiamo la stessa altezza per quello 2 catenelle filo sull'uncinetto chiudiamo tutte e tre le maglie insieme facciamo 3 catenelle di separazione nella maglia alta successiva andiamo a fare di nuovo una maglia alta incompleta la seconda maglia alta incompleta e la terza maglia alta in completa chiudiamo tutto insieme e facciamo 3 catenelle di separazione si ricomincia dalla maglia alta successiva libera ok questa l'abbiamo usato quindi si parte con la prima maglia alta incompleta la seconda maglia alta incompleta la terza maglia alta incompleta tengo tutte le casolino sull'uncinetto filo sull'uncinetto chiudo tutto insieme 3 catenelle procedo così per tutto il giro ci ritroviamo qui all'inizio eccomi qui all'ultimo tris come vedete a me qui mi manca una maglia perché effettivamente questa maglia fa parte di questo tris io cosa faccio entro lo stesso in questa maglia ok e mi procuro la maglia mancante quindi come sempre vi dico non fasciatevi la testa faccio le 3 catenelle consuete di questo giro entro nella testa della prima maglia e faccio la maglia bassissima vi voglio far vedere una cosa ragazze allora mi è appena arrivato questo secchiello finalmente ho deciso di comprarlo allora lo trovate sempre sul 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 mio sito vi metto comunque sia il link allora io ho preso il colore rosa e ad queste sbavature bluastre qui penso che sia dato dalla cerniera non so comunque sia è un difetto di colorazione ma me non interessa niente poi per quello che costa il secchiello va bene così ma quello che volevo mostrarvi con quello che volevo mostrarvi dicevo prima che si chiudesse con totalmente la telecamera e la comodità ricordate in altri tutorial che praticamente mi gira il il gomitolo da tutte le parti e mi sono deciso detto ma sì dai io lo prendo per quel che costa ci provo a questa cerniera ve la volevo mostrare a parte il difetto di colorazione ma chi se ne frega ok il l'interno è così molto semplice si vede tutte tutte le cuciture si vedono quindi non è che sia la perfezione ma ripeto per quello che costa però fa bene il suo lavoro adesso io lavorerò questa maglia vedete ho inserito il gomitolo dentro poi faccio passare il filo in questo buccanino e lavoro quindi io lo tengo in basso in modo tale che quando tiro il filo vedete viene su bene e lavoro proprio questo progetto usando il secchiello e vediamo se effettivamente funzionante funzionale vi dico è molto semplice molto spartano si può dire ripeto si vedono tutte le cuciture niente di trascendentale una similpelle ovviamente qualche difetto di colorazione ce l'abbiamo bellissima la trama coi bottoncini ma diciamo non è tanto quello il discorso quanto il fatto che non ci non mi scorre più finalmente il gomitolo in tutta il mio piano lavoro vedete io chiudo il mio gomitolo all'interno questo lo tengo in questa maniera qui e lavoro con il filo che si se voi potete vedere ecco tirando il filo in questo modo vediamo vediamo mentre lavoro se effettivamente funziona questa è la mia mascotte la mia mascotte che mi ha regalato la mia amica barbara poggiti allora siamo arrivati quindi alla fine dell'undicesimo giro adesso andiamo a fare ecco perdo il cappuccio il dodicesimo giro voi dite ma perché te lo scrivi perché se non mi dimentico ogni volta devo andare a contare di giri ho fatto e quindi in quel modo per me è più comodo ok sopra il tris noi ci siamo proprio bloccati qui facciamo una maglia alta che equivale alle nostre 3 catenelle ok quindi 3 catenelle entriamo nello spazio di 3 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte quindi nello spazio noi faremo funziona bene il secchiello ragazze io avevo paura mi rovinasse il filato invece assolutamente no e scorre bene ok quindi secondo me ve lo consiglierò però voglio provarlo ancora un po allora maglia alta sul tris e nello spazio di 3 catenelle facciamo 3 catenelle 3 maglie alte certo ok di nuovo maglia alta una maglia alta sul tris e nello spazio di 3 catenelle faccio 3 maglie alte ok maglia alta una soltanto sul tris e 3 maglie alte nello spazio di 3 catenelle se decisamente funziona maglia alta sul tris e 3 maglie alte nello spazio di 3 catenelle e facciamo questo per tutto il dodicesimo giro finito il dodicesimo giro andiamo nella terza catenella della prima maglia alta che era poi le 3 catenelle iniziali ok inseriamo proprio nella testa della prima dell'ultima della terza catenella e facciamo una maglia bassissima lo rifacciamo anche meglio quindi 123 maglia bassissima allora iniziamo adesso il tredicesimo giro il tredicesimo giro è composto semplicemente da maglie alte a rilievo quindi facciamo le 3 catenelle per la prima maglia alta e poi mettiamo a rilievo in avanti quindi verso di noi la maglia come abbiamo fatto precedentemente questa ma ve la faccio rivedere quindi questa è la nostra maglia la prima maglia alta formata dalle 3 catenelle che va proprio sopra la prima del giro precedente filo sull'uncinetto passiamo al suo fianco giriamo intorno alla maglia alta che dobbiamo lavorare prendiamo il filo e facciamo una maglia alta filo sull'uncinetto passiamo subito a fianco prendiamo la maglia alta successiva libera filo sull'uncinetto l'abbiamo già messo abbiamo preso la maglia e facciamo la maglia alta ve lo rimostro filo sull'uncinetto passo dietro la maglia alta successiva passo davanti prendo il filo lo faccio passare e faccio la mia maglia alta di nuovo vedete questa l'abbiamo appena lavorata quindi io passo qui a fianco giro davanti e vado dietro a prendere il filo lo porto dietro con me e faccio la maglia alta e poi questo tutto qui facciamo questo per tutto il giro e ci troviamo qui arrivati alla fine del tredicesimo giro andiamo a chiudere come di consueto il nostro giro quindi con una maglia bassissima collegandoci alla prima perfetto allora scusate passo davanti andiamo a fare il quattordicesimo giro tiriamo su 3 catenelle più una che serve proprio come di che serve tra una maglia alta e l'altra come per la vi rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia alta come distanziale non mi veniva sta continuando a funzionare bene il nostro nuovo cestino nuovo amico allora saltiamo due maglie alte sottostanti nella terza facciamo una b che composta da una maglia alta una catenella e una maglia alta di nuovo saltiamo due nella terza facciamo una maglia alta una catenella e una maglia alta sì ogni tanto vedete si inceppa sì però dopo riprende a funzionare si inceppa il filo e intendevo 123 lo sto proprio provando proprio per vedere se posso consigliarve lo consigliarve lo o meno ok 123 una catenella e una catenella e andiamo avanti in questo modo per tutto il giro ci ritroviamo alla fine del quattordicesimo giro chiudiamo il nostro giro il quattordicesimo giro quindi noi abbiamo fatto la nostra b ne saltiamo 2 1 2 3 e chiudiamo il quattordicesimo giro bene allora a questo punto voi dovete vedere l'ampiezza della vostra mantella quindi provatela e vedete se avete raggiunto bene le vostre spalle ok allora se la misura va bene quindi praticamente se l'ampiezza qui abbiamo aspettate che vi mostro quanto abbiamo io ho praticamente 23 centimetri come come sprone chiamiamolo così abbiamo 23 centimetri come diametro provo a darvelo ma sapete che non sono mai d'accordo sul dare le mie misure anche perché ognuno c'è le proprie io cerco di far così ecco passo da una parte all'altra direi che ho un 58 come diametro allora io l'ho provato e praticamente qui provandolo capite subito se va bene o no la misura ok ho deciso di utilizzare i miei classici meravigliosi disegni non sono capace a disegnare quindi è solo per mostrarvi più o meno dove dovremmo dove siamo arrivate noi abbiamo praticamente questa misura che la misura che scende proprio dalla spalla ok quindi diciamo che è la dimensione più grande in questo caso quindi se voi vedete che scende bene dalle spalle e quindi non occorre più aumentare in questo caso voi non me ne siete neanche accorte ma abbiamo aumentato e seguite me ok quindi se vi scende bene dalle spalle seguite me se invece è troppo stretta ancora dovete proseguire ad aumentare in che senso aumentare io per esempio adesso devo andare a fare aspettate che vi dico il quindicesimo giro il quindicesimo giro è formato dai punti allora il quindicesimo è formato dai punti puff o palloncino ogni punto è formato da quattro maglie e fin qua ci siamo ok questo per ricordarvi ogni punto palloncino è formato da quattro maglie normalmente tra i due punti puff si fanno due catenelle se non dobbiamo aumentare quindi il discorso è questo se voi siete arrivati alla dimensione bella comoda sulle spalle e non volete più allargarlo ok adesso anziché tre punti catenella 3 catenelle e tra un puff e l'altro facciamo solo due catenelle se invece vedete che ancora stretto e quindi dovete dovete ancora allargarlo un pochino allora anziché le 2 catenelle fate le 3 catenelle per allargare è chiaro è chiaro il discorso quindi se va bene la misura io a me per esempio va bene perché sono oltre le mie spalle quindi io farò due catenelle se invece non va ancora bene troppo stretto allora tra un punto puff e l'altro perché adesso il giro dei punti puff dovete fare 3 catenelle ok questo era un promemoria per chi per chi magari non ha il mio filato o ha scelto un filato un pochino più sottile e quindi ovviamente non a questa misura siete siete ancora indietro quindi dovete ancora allargare ok io spero che avete utilizzato questo filato perché è veramente vale veramente la pena quindi tornando a noi era una piccola parentesi tornando noi siamo al quattordicesimo giro e abbiamo finito adesso andiamo a fare il quindicesimo giro ho fatto confusione prima se il quindicesimo giro quindi il quindicesimo giro io lo inizio in questa maniera innanzitutto chiudo il quattordicesimo che forse l'avevo chiuso ma se l'avevo chiuso è vero mi è sfuggito di mano brutta chiusura ok ora vado nel punto a b tiro su 3 catenelle poi 1 2 e 3 che con questa diventano 4 chiudo il punto puff e come dicevo per quanto mi riguarda faccio solo 2 catenelle perché io sono arrivata alla misura desiderata per quanto riguarda voi non lo so dipende se dovete ancora allargare farete 3 catenelle se invece va bene la misura andate avanti come me quindi con due catenelle e rifacciamo di nuovo il punto puff con 2 3 4 maglie alte incomplete chiuse insieme e di nuovo 2 catenelle di nuovo 1 2 3 4 chiudiamo insieme e 2 catenelle e procediamo così per tutto il giro spero di essere stata chiara per quanto riguarda qui la decisione si allargare o no questo è molto importante per chi lo vuole più ampio ok quindi chi lo vuole più ampio metterà 3 catenelle chi lo vuole chi a chi va bene già così 2 catenelle sono sufficienti a dopo benissimo il 15 il quindicesimo giro l'abbiamo terminato quindi abbiamo fatto le 2 catenelle nel mio caso 3 catenelle per chi deve ancora allargarlo e 15 e agganciamo nel primo punto puff e facciamo un punto bassissimo ora andiamo a fare il nostro sedicesimo giro allora per il sedicesimo giro ovviamente cambieranno le cose quindi innanzitutto spostiamoci dal punto puff entriamo nello spazio ok quindi ci spostiamo con punti bassissimi ok entriamo nello spazio io ho 2 catenelle nello spazio quindi io tiro su la prima maglia alta con le 3 catenelle e in più farò una maglia alta per fare la seconda maglia alta ok quindi in totale ne ho due metto in rilievo il mio punto palloncino in questo modo che abbiamo già visto più volte quindi sapete farlo nello spazio di 2 catenelle per quanto mi riguarda io farò 2 maglie alte per chi invece ha fatto le 3 catenelle perché ha dovuto allargare ulteriormente nello spazio di 3 catenelle farete semplicemente tre me tre maglie alte e poi mettete a rilievo il punto puff come sempre abbiamo fatto ok quindi io metterò 2 maglie alte nello spazio di 2 catenelle tu che hai magari messo 3 catenelle perché lo volevi allargare in questo punto e in tutti i punti con gli spazi metterai in base alle catenelle che è impostato farai tante maglie alte quindi se ne hai 3 farai 3 maglie alte e poi metti a rilievo il punto puff ok andiamo avanti così per tutto il sedicesimo giro e ci ritroviamo alla fine di questo giro racchiudiamo il nostro sedicesimo giro quindi nella terza catenella facciamo una maglia bassissima e così abbiamo unito il nostro giro andiamo ora a fare il nostro diciassettesimo giro allora dobbiamo fare il giro del tris quindi noi partiamo con 2 catenelle perché dobbiamo fare un tris quindi dobbiamo chiudere 3 maglie insieme entriamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia non completa nella maglia alta successiva una maglia alta non completa che chiudiamo insieme separiamo con due catenelle ripetiamo 1 2 3 chiudiamo tutto insieme separiamo con due catenelle ve lo faccio vedere ancora una volta ma oramai lo sapete fare anche voi due e tre chiudiamo tutto insieme due catenelle e questo sarà il nostro di diciassettesimo giro finiamo un giro e ci ritroviamo qui e chiudiamo il nostro diciassettesimo giro come facciamo sempre ok allora adesso vi spiego bene cosa dobbiamo fare siamo arrivati insieme fino al diciassettesimo giro voi adesso provate la vostra mantellina e provate a vedere i lati se sono abbastanza ampi se sono abbastanza ampi e secondo me ci siamo perché se usiamo lo stesso filato siete alla mia misura quindi più o meno va bene per tutti noi andremo avanti così allora il diciottesimo giro allora il diciottesimo giro noi praticamente siamo al tris quindi se guardiamo sotto il nostro tris come sono delle maglie alte però noi qui abbiamo due catenelle perché non abbiamo fatto aumenti ok quindi noi faremo due maglie alte nello spazio di 2 catenelle e una maglia alta sul tris quindi il diciottesimo diventa due maglie alte nello spazio più una maglia alta sul tris e qui è il diciottesimo il diciannovesimo faremo semplicemente le tutte maglie alte a rilievo come abbiamo fatto qua ok quindi praticamente maglie alte a rilievo quindi voi basta tornare indietro da questo punto e continuate a seguire lo schema sinfonia quindi come ripeto da questo punto cioè parlo proprio basta anche solo guardare il vostro progetto ok quindi le maglie alte maglie alte rilievo poi abbiamo qui la b la b quindi praticamente il ventesimo giro sono le vi lavorate come abbiamo lavorato questo giro poi il ventesimo giro il ventunesimo il ventesimo e questo il ventunesimo giro facciamo il punto puff ma il punto puff con 2 catenelle quindi il ventunesimo noi facciamo il punto puff con 2 catenelle di separazione ok quindi facciamo lo stesso punto palloncino con 2 catenelle di separazione quindi il ventiduesimo giro il ventiduesimo che questo facciamo ovviamente lo stesso giro che abbiamo fatto qui quindi la ma le due maglie alte quindi due maglie alte nello spazio di 2 catenelle e una maglia alta che mette a rilievo il punto puff adesso noi partiamo dal diciottesimo giro ok diciottesimo giro poi facciamo il diciannovesimo il ventesimo il ventunesimo il ventunesimo e il ventiduesimo in poche parole noi proseguiamo quindi voi siete qui ok il tris tris proseguite lo schema sinfonia fino ad arrivare al ventiduesimo giro quindi sono noi siamo al diciottesimo sono 1 2 3 4 5 giri per 5 giri andate avanti da sole poi ci ritroviamo qui vediamo come fare allora ci siamo lasciati al diciottesimo giro che era questo e vi ho detto appunto di andare avanti vedete allora vi ho detto eravamo qui vi ho detto di andare avanti al diciottesimo giro quindi due maglie alte e una maglia alta sul tris quindi in poche parole andare avanti con lo schema sinfonia che oramai conoscete bene perché l'abbiamo già fatto e senza nessuna modifica ok e siamo arrivati al ventiduesimo giro che è l'ultimo che abbiamo fatto questo qui con le due maglie alte più la maglia alta che porta rilievo il punto puff e siamo al ventiduesimo giro ok adesso dobbiamo fare il ventitresimo giro allora per il ventitresimo giro faremo questo anzi ve lo scrivo anche qui anche se allora dobbiamo fare i tris ok nel ventitresimo noi facciamo i tris e normalmente i tris hanno due catenelle che separa un tris dall'altro ok quindi diciamo sono due catenelle questa volta facciamo il tris e due catenelle poi un tris e 3 catenelle e si ripete di nuovo tris 2 catenelle e tris 3 catenelle c'è un muscerino allora questo il ventitresimo giro quindi noi faremo in questo modo tiriamo sulle nostre 3 catenelle normalmente in questo caso due perché dobbiamo fare 3 maglie alte incomplete come sempre quindi questa è la seconda e questa è la terza maglia alta incompleta che chiudiamo insieme ok e facciamo subito 2 catenelle poi andiamo subito nella maglia alta sottostante successiva quindi uno e facciamo la stessa cosa due e tre maglie alte che andiamo a chiudere insieme questa volta però facciamo 3 catenelle ok poi andiamo nella maglia successiva sottostante e facciamo una maglia alta incompleta 2 maglie alte incomplete 3 maglie alte incomplete chiudiamo tutto insieme e facciamo 2 catenelle ritorniamo a fare un tris quindi nella maglia alta libera successiva sottostante quindi subito quella dopo la seconda maglia alta incompleta la terza maglia alta incompleta chiudiamo tutto insieme e quindi qui ne abbiamo fatti solo due e adesso ne facciamo 3 catenelle quindi una volta 3 catenelle una volta 2 catenelle una volta 3 catenelle una volta 2 catenelle quindi intervalliamo 2 e 3 catenelle ok e andiamo avanti così per tutto il giro perché questo perché voglio che piano piano adesso si allarghi ma non di troppo ok seguitemi perché se non viene troppo campana quindi facciamo in questo in questa maniera voi state dietro di me tanto sicuramente avete il mio filato il mio stesso spessore e di conseguenza così almeno vi viene perfetto ci vediamo alla fine del giro ricordate un tris e 2 catenelle un tris e 3 catenelle e si ricomincia tris 2 catenelle tris 3 catenelle ci vediamo alla fine del giro ok siamo arrivati alla fine del giro solo per farvi vedere è ovvio che possiamo non trovarci ok tipo per esempio guardate vi faccio vedere io qui ne avevo solo due quindi io cosa ho fatto lavorato queste due più una che è qui praticamente ho lavorato sulla stessa ho fatto comunque il mio tris e qui dove dico rubate se non riuscite a trovare se ne manca una la prendete qui se ce n'è uno in più fate un tris con magari in mezzo la maglia in più ok cercate di far tornare il vostro conto io qui ho le ultime due catenelle cioè la catenella con il distanziatore con due catenelle adesso ne facciamo tre e mi vado ad agganciare sul primo tris così allora aspettate un attimo è perché qui non sono aggiornato allora aspettate un attimo siamo al ventiquattresimo giro bene ora la prima cosa che ne facciamo è quella di spostarci nello spazio e dove ci sono quindi dove ci sono due catenelle farete 2 maglie alte dove ci sono 3 catenelle farete 3 maglie alte ovviamente sopra il tris maglia alta quindi questo è il ventiquattresimo giro ok noi quindi ci spostiamo anzi senza spostarci facciamo una maglia alta sul nostro tris qui abbiamo le due catenelle e quindi faremo le due maglie alte andiamo sul tris e facciamo una maglia alta lavoriamo questa parte come sempre ma facendo attenzione di fare 3 maglie alte dove c'è lo spazio di 3 catenelle ok vedete ne ho fatte 3 una maglia alta va sempre sul tris qui ci sono 2 catenelle e io farò 2 maglie alte poi la maglia alta sul tris qui lo vedete subito no le 2 catenelle più piccolino come buchino 3 catenelle sono più grandi qui abbiamo le 3 catenelle e io farò le 3 maglie alte vado sul tris e faccio la mia maglia alta vado nelle 2 catenelle e faccio le mie 2 maglie alte quindi sul tris una maglia alta nelle nello spazio di 3 catenelle 3 maglie alte ok volevo solo farvi vedere che è semplicemente c'è questa variazione cioè dove c'è lo spazio di 2 catenelle faremo 2 maglie alte nel tris ovviamente ci sarà sempre la maglia alta quindi tris maglia alta ma dove ho lo spazio di 3 catenelle io farò 3 maglie alte e faremo tutto questo per tutto il giro ok il 23 il 24esimo giro è composto in questo modo è un po' diversificato ripeto 2 maglie alte dove ci sono le 2 catenelle 3 maglie alte dove ci sono le 3 catenelle e ovviamente la maglia alta classica sul tris ci deve sempre essere facciamo tutto il giro e ci ritroviamo qui vi faccio vedere a che punto siamo arrivati proprio sul manichino così almeno si capisce meglio scusate la luce ma non sono nel posto dove ho la luce migliore praticamente noi arriviamo vedete siamo praticamente nel gomito ok altezza gomico gomico sì certo altezza gomito ok mi torna meglio così per chi vuole fermarsi qui questa è una semplice mantellina poi se volete poi continuare come io continuerò poi dopo mi seguirete io invece continuo perché la voglio fare più lunga di questa misura e poi ho intenzione di fare altro adesso vediamo se non vedete niente di particolare è perché poi mi sono decisa o magari non mi è piaciuto l'idea che avevo in mente per ora volevo solo farvi vedere che a questo punto chi vuole la mantella altezza gomito si può anche fermare ok magari lo può poi rifinire con una pelliccetta ecologica ok comunque si può fermare noi invece procediamo e andiamo avanti chi deve andare avanti come appunto voglio fare io deve sapere questo innanzitutto lo dovete provare per quanto mi riguarda io ho un'ampiezza aspettate che prendo al metro quindi l'ampiezza io sto misurando dal bordo ok proprio bordo da un bordo all'altro più o meno o un 83 centimetri all'incirca e all'incirca 83 c o 83 centimetri e come altezza ne ho 40 ok allora chi lo vuole più ampio più ampio ancora di questo ovviamente voi lo provate ok provate a vedere se siete comode dentro se siete comode semplicemente da adesso in poi andiamo avanti con il lo schema sinfonia da adesso in poi chi invece lo vuole allargare un po di più ok renderlo ancora più ampio proprio nel nei lati ok nei lati che poi qui non c'è un lato è tutto tondo e nei lati deve fare la stessa cosa che abbiamo fatto nel ventiquattresimo giro lo deve fare nel prossimo tris quindi il tris che voi trovate dopo dopo cioè quando voi continuate con lo schema sinfonia ovviamente l'abbiamo rifatto tantissime volte l'abbiamo fatto insieme quindi voi sapete adesso come continuare e se non vi ricordate tornati indietro così vedete il punto in cui siamo che dopo il tris ok guardate nel video se non volete riprenderlo di qua vedete dopo il tris abbiamo fatto le maglie alte ora dobbiamo fare la maglia alta a rilievo e poi c'è la v poi c'è il punto puff e poi di nuovo la maglia alta con a rilievo del punto puff poi abbiamo il tris ecco chi vuole allargarlo di più quando è di nuovo al punto tris che il ventiquattresimo giro farà la stessa cosa quindi in un punto metterà 3 catenelle e nell'altro ne metterà due quindi il tris 3 catenelle il tris 2 catenelle tris 3 catenelle il tris 2 catenelle 2 catenelle e ovviamente dove poi nel giro successivo ovviamente dove avete messo le 3 catenelle voi farete le 3 maglie alte non dimenticatevi però la maglia alta sul tris e dove avete fatto le 2 catenelle le 2 maglie alte ok spero di essere stata chiara ok quindi per chi sta bene sta usando il mio filato abbiamo la stessa a questo punto se avete usato il mio filato abbiamo la stessa siete partite con le 72 catenelle come me abbiamo la stessa identica dimensione quindi se a voi va bene come larghezza procedete e andate avanti fino a che non arriviamo circa al polso è ok noi adesso siamo al gomito dobbiamo arrivare circa dai facciamo tre dita dal polso ok io ho le braccina corte non so voi che braccio ne avete magari avete due bellissime braccia lunghissime quindi diciamo dobbiamo arrivare a circa tre dita tre dita che poi le mie tre dita equivalgono a circa 5 centimetri ok anche sei centimetri più o meno 5 6 centimetri dal dall'inizio mano quindi 5 6 centimetri dal polso e vi fermate perché ci ritroviamo e vediamo se l'idea che ho avuto io può andar bene o meno altrimenti ci fermiamo semplicemente lì e facciamo la rifinitura ok chi invece questo per chi seguirà me e non fa nessun tipo di aumento chi invece fa l'aumento farà l'aumento il prossimo tris nel prossimo tris lavorerà come io ho lavorato il ventiquattresimo come abbiamo lavorato insieme il ventiquattresimo giro e lo fa quindi appena arriva il prossimo tris e poi lo prova se vede che non è ancora abbastanza largo nel giro successivo dei tris fa la stessa cosa finché la larghezza a voi non aggrada non vi va bene o che non vi vada bene ok quindi a questo punto non rimane che dirvi io mi segnerò tutti i giri che faccio se volete segnateveli anche voi così almeno avete sempre un promemoria di quello che che stiamo facendo e ci ritroviamo quando tutte abbiamo la misura giusto soprattutto quando ce l'ho io perché sarò poi io a darvi il via al restante progetto ok buon lavoro grazie a tutti